goccioline adorate eccoci non fatevi ingannare dalla voce così pimpante in realtà sono morta finito finito ci abbiamo fatto abbiamo finito con tutte le correzioni non saprete niente ovviamente però ecco oggi ho un incarico non devo dirvi nulla di nuovo se non riparare un torto che secondo me è stato perpetrato sì sì è stato perpetrato un torto sempre in casa lazzaro e voi non ne sapete nulla quindi è questo il mio ruolo oggi riparare un torto sapete che nel canale forse non lo conoscete nel canale di dei lazzaro dalla lazzaro figlia è stato deciso che i commenti dovessero passare in revisione l'altro canale invece quello del lazzaro marito no assolutamente non ho mai detto qualcosa del genere eppure non ci crederete io lo so voi non ci crederete ma sì sono stati cancellati del degli apprezzamenti dei pareri che voi credete che fossero non lo so maleducati ingiusti io penso che non possiate giudicarlo appunto perché non li avete visti e allora per riparare a questo che io considero un torto adesso ve li vado a leggere dunque il primo è di serena si parla di ieri sera e dopo la live quella meravigliosa dove lei lei la lazzaro madre aveva ribadito il suo papponi ecco serena dice solo una parola puntini 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 indecente 53 like dome 29 08 66 ma possibile che alla sua età deve fare tutte queste continue polemiche si rende conto che si rende ridicola e più fa così più le persone la prendono in giro dovrebbe ascoltare scusate dovrebbe ascoltare e poi qui io non leggo più dovrebbe ascoltare penso sia suo genero comunque nove like già da questo e tre commenti sotto leggiamo la risposta del della signora della madre della nonnina dome certo quanto sei dolce certo quanto sei dolce e sincera punto esclamativo o attenzione tre like li ha racimolati ma dome non è soddisfatto soddisfatta e risponde la maggior parte della gente non ca sarà la sopporta per il suo modo di fare prima se le farà una ragione e cambierà atteggiate sarà e cambierà atteggiamento prima le persone le porteranno rispetto 33 like scusate ero arrivata quindi a le porterà rispetto poi vi ringrazio anche per quello che avete detto mi avete spiegato se voi pensate che meriti rispetto oppure no erano 33 like l'avevo detto forse no comunque risponde ancora la signora vedete che lo stanca è la nonnina facciamo chiamare la nonnina così ci sbrighiamo prima dome 29 08 66 non è così non è così non disturbarti a dire cose che non sono vere purtroppo realtà molto più complessa punto virgola le persone vogliono solo trovare da ridire virgola io non faccio polemiche cerco solo di far capire quanto fango si butta addosso senza aver mai fatto male maiuscolo perché si male maiuscolo certo a nessuno è la cattiveria non è certo dentro di me virgola io mi ribello perciò a persone che vogliono manipolare la verità passo dal torto vediamo passo dal torto voglio non passo dal torto se ciò sia vero lo capiscono le persone che ragionano e usano intelligenza scusate ogni tanto prendo fiato per giudicare allora e usano intelligenza per giudicare non pregiudizi di sorta punto io sono pessima ma chi ascolta la anche le gravi diffamazioni che prima che io reagisca vengono rivolte sia a me che alla mia famiglia chi qui si parla davvero di bullismo da è brutto essere interrotti mentre si parla eh signora qui si parla davvero di bullismo da parte di diverse persone attenzione attenzione con poco cervello e tanta presunzione quindi sta dando anche delle persone stupide agli altri e molto presuntuose si si vede che è una persona che rispetta tanto gli altri andiamo avanti con blonde paprika allora ogni giorno una polemica mai visto un canale youtube gestito così male appunto così privo di contenuti una persona messa a forza davanti alla telecamera che legge commenti e si incavola diciamo legge commenti e polemizza senza partorire mai scritta in lettere maiuscole un'idea un argomento interessante ricordate che i panni sporchi si lavano in casa e non quotidianamente su un social network sapete quanti youtubers hanno haters veri ne parlano mai no se ne fregano voi ogni giorno tirate fuori questo argomento abbiate rispetto per chi segue altrimenti è normale che le visual diminuiscano e quindi per riprendersi bisogna inventare carica cavolate diciamo daniel a 4 like daniela rosselli perché voi capite tutto siete veramente patetici soprattutto la signora alla sua età mi vergognerei a parlare in questo modo 35 like risponde adesso la signora daniela punto io non mi vergogno punto mi vergognerei a fare del male ma il mio dire non produce cattiveria il mio dire la reazione alle diffamazioni continue che subiamo a titolo gratuito a lei ha deciso che dire agli altri che sono degli stupidi poco cervello presuntuosi ignoranti sì e anche maleducati no non produce nessuna cattività no no mai quando parla lei no non fa male a nessuno sì sì l'ha deciso chi lei certo quindi è soltanto una reazione dice alle diffamazioni continue che subiscono a titolo gratuito gratuito insomma con quella pubblicità certo lei non ricava nulla però beh continuo continuo va bene se non te ne accorgi di quello che subiamo pazienza ma la verità è questa ti piaccia o no ti piaccia o vieni bannata giusta vero Enrica Savona cambia ti stacca notta per l'amor del cielo più qualche figura risponde qualcuno a Isabel ti risponde che ne ha 27 uguali a proposito il commento di Enrica aveva 64 like mentre Isabel ne ha 3 risponde ancora lei si parla di canotta del genere ma eccola di nuovo lei Enrica se pensi sia un vuncione vuncione fai a meno di guardare invece di diffamare diffamare perché c'è il punto esclamativo sappi che non stai dicendo qualcosa di simpatico e neppure di vero solo un pregiudizio cattivo ah ma questo fa male ah già vero questo fa male perché degli altri sì sì scusate mi continuo a leggere cosa guadagni a livello di civiltà ah ecco vero signora che cosa guadagna lei a livello di civiltà quando offende gli altri bella domanda sì poi abbiamo Sally oh scusatemi non vi ho detto se ci sono like perché non l'avevo ancora visto vediamo state tutti fremendo ad aspettare eh zero zero like peccato un'ottima occasione ed è pure da bella la domanda cattivi 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 allora Sally che sarebbe Sally penso comunque eh chiede ma lavarsi pare brutto 55 like risponde chi secondo voi bravi 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 eh la nonnina Sally Sally punto perché il punto glielo dobbiamo mettere dopo che parliamo porca miseria l'abbiamo chiamata è un vocativo un complemento di vocazione sì glielo la metto punto pare bello quello che dici due like risponde Sally ciao Sally nel salotto della nonna della nonna del salotto che c'entra il salotto? boh comunque allora risponde alla nonna e dice una doccia non fa mai male a nessuno e lo dici tu e lo dici tu quei capelli peccato le cose che vengono tagliate un po' così quei capelli sono possiamo immaginarlo però non lo leggo qualcuno ecco una risposta di ele ele ma perché? c'è un nome comunque sì ma perché lui il signor lazzaro deve sempre avere la sua cerina a fianco signor lazzaro non ne può più say like forse non c'è tanta commiserazione nei suoi confronti sarà perché cosa la cerca? può essere come non può essere non lo so Erika Savona risponde alla nonnina e dice e lui a non essere civile ed educato con i suoi utenti clienti visto che è sul lavoro sarebbe rispettoso presentarsi decentemente puntini 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 non penso non abbia tempo per cambiarsi inoltre sono sempre a comprare vestiti quindi non penso che non abbia un ricambio puntini 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 e sono troppi però eh Erika che caspita ha da fare tutto il giorno non è che deve studiare i contenuti del video mangia e dorme santo cielo è una mancanza di rispetto poi ci sono i commenti quelli che sì quelli ve li fanno vedere mentre abbiamo Valeria che dice questi sono i contenuti tra virgolette interessanti di cui guadagnano centinaia di euro 24 mi piace piace like gas free ma questa donna perché è così permalosa non ci sa stare non ci sta stare poi avrà scritto male voleva intendere secondo me non ci sa stare nei social perché non va a fare delle passeggiate all'aria aperta come i suoi coetanei 16 like posso dire che con questa non sono molto d'accordo gas free perdonami come ho trovato delle cose su cui non ero d'accordo lì non sono d'accordo neanche qui certo fare una passeggiata all'aria aperta c'è niente di male però potrebbe stare tranquillamente nei social usando modi magari più urbani no no e vabbè tanto è la vostra opinione mica la mia poi le altre le avete lette sia buone poche sia una forse che non è ottima e le altre ve le potete guardare perché hanno deciso per voi che le altre si le potete leggere le potete leggere bravi perché gli altri no con i commenti che è lecito far leggere bisogna usarli soltanto per dare una certa immagine di sé e questa pensate che è la persona che parla di verità la verità non vedrete altro che la verità non sentirete altro che la verità ma come si fa a non credere a persone così come si fa come si fa come si fa sì vabbè sono cattiva allora dicevo colgo l'occasione per dire a voi che avete risposto in tanti e io sono stanchissima oggi non ce la faccio proprio per rispondere a voi risponde a chi mi dice da noi si dice il rispetto è misurato se lo porti lo avrai portato l'età non conta e non deve essere una giustificazione né per il giovane né per il vecchio tesoro sono perfettamente d'accordo io vi chiedevo datemi una spiegazione del contrario perché dovrei di non non usare proprio questa osservazione che per me è naturale grazie comunque per avermi risposto ondina non trovo il mio commento ecco succede anche questo non è colpa mia è youtube che fa queste magie dove vanno a finire un po' come il mistero dell'ascesso se sa non lo sa nessuno continuo poco male avevo scritto quello che penso della famiglia Lazzaro invece a me dispiace magari se me lo riscrivi per favore mi farà tanto piacere leggerlo anche il mio computer si è stancato di sentire tante assurdità che torella scatenata la nonna Lazzaro l'avrà innervosita quel video hot puccioso l'allergia quando sento puccioso della figliuola pubblicato dal solito cananaccio discolo oh signor ha detto e fatto anche di peggio assai grazie ondina ciao ma grazie a te non so nulla di un video hot puccioso soprattutto non quella parola non quella parola non ne so nulla grazie per avermi informato ma eviterò accuratamente di vederlo non per il canale discolo ma per il contenuto poi buongiorno ondina non ho ancora ascoltato il tuo video commento da stamattina beata te che hai dovuto il tempo ma ho saputo un po' in giro cosa è accaduto ti ascolto mentre mi preparo per andare al lavoro un bacio grazie tesoro mio ah scrive poi sotto abbiamo un nuovo nome per la famiglia i signori lazzaroni ci sta bene vero? taccio taccio però il lazzarone ogni tanto dovrebbe cambiarsi la canotta mi ha detto un'amica che segue che segue le avventure della regina di sto ma non è più un quarto qua è di un sesto sì nel medioevo c'erano i sestieri invece dei quartieri che ieri sera si vedevano due patacche di unto sulla spallina mazza ma che vista che avete ma poi avete tutta sta voglia proprio di guardarle io no io no ne leggo un altro in effetti l'età in realtà non c'entra però è difficile staccarsi dai precetti avuti a me hanno insegnato che è doveroso portare rispetto a tutti ovvio ma soprattutto agli anziani però è fuori di dubbio che non è proprio così ma ancora faccio fatica a dire ad una persona anziana tutto 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 quello che penso o meglio lo dico ma devo indagare fra i cassetti del bon ton e armarmi di pazienza per non incorrere in parole che possono risultare offensive però in questo caso quasi quasi sarebbe anche un piacere aver davanti la persona in questione per astratto perché in realtà non ci tengo e dirgliele di ogni vabbè mi autobanno e mi metto a riflettere ciao onda buona giornata mi hai regalato un sorriso grazie a te e comunque capisco il ragionamento che fai sul galateo non capisco a rigore di logica che cosa centri ancora l'età con il rispetto però la pensiamo nello stesso modo in effetti ancora uno ma poi ieri sera fra dissenteria di lui e tosse catarrose di lei mi veniva il volto a stomaco volto a stomaco ecco ecco la solita insensibile che non sente neanche un minimo di empatia eppure un altro che mette un mi piace ma che siete ma che siete con persone che stanno male dio mio da che gente continuo a mio parere lo hanno capito che il loro canale è arrivato alla deriva e lei non sa più cosa inventarsi ma tutto questo nasce da una presunta saccenza che nasconde una ignoranza senza fine non si dice ignorante non si dice ma allora niente avete imparato niente continuo non un argomento non un'idea in una città come Milano dove c'è di tutto da vedere sono tre anni che ci vivo e per vari motivi ne avrò visto il 10% ma se non c'è una curiosità sana alla base non ci sarà mai una cultura varia e piena e giustamente riceve soltanto 5 di like il mio c'è sempre più il cuoricino ma hai ragione però mi ricordo che anch'io quando vivevo a Roma avevo sviluppato quella forma di pigrizia che dice vabbè ci posso andare quando voglio e ti riduci alla fine a non andarci mai certo se sei uno youtuber qualcosa dovresti far vedere ai tuoi seguaci seguaci gli utenti risponde a questo commento un'altra gocciolina le visual sono in caduta libera d'altra parte che piacere c'è nel guardare uno sciattone che non sa neanche cosa dire lei anche quando va da Primark to va da Primark non sapevo può mostrare solo delle cianfrusaglie sull'abbigliamento lasciamo perdere proprio il tempo libero è poco è prezioso per tutti quindi meglio dedicarlo a cose istruttive o divertenti faccio qualche gioco come parle o wordle sarebbe vabbè le parole oppure anche scarabeo se volete se proprio devo sprecare tempo io non credo sia sprecare tempo e giocare divertirsi in un modo sano secondo me guardo qualche video con cani o cavalli qualcuno di giardinaggio e cucina make up e sono già troppi io anche leggo cerco di trovare il tempo per fare tutte queste cose intanto ho un po' rallentato però sono d'accordo con te ciao onda buon lavoro per oggi grazie grazie e un in bocca al lupo ai tuoi studenti a loro mica sì vabbè è andata ormai adesso sai che alla parola da te usata prostituti lei sta già preparando vendetta tremenda vendetta del tipo al mio segnale scatenavate l'inferno lo so tesoro mio lo so non lo immagino perché no non ci arriva che se c'è il pappone ci deve essere il prostituto la prostituta no non ci arriva anche se poi alla fine se uno fa la prostituta che c'è di male no non dovevo dire neanche quello accidenti a me mi chiedo cosa non si fa per monetizzare altro messaggio praticamente qualsiasi cosa è la risposta famiglia di disaggiati senza dignità e privi di empatia verso chi ha subito lutti per l'ascesso lucrano su tutto per fare quattro soldi che gli permetta di andare in ferie sarò cattiva ma spero non riescano nel loro intento in bocca al lupo ai tuoi studenti io auguro a tutti di stare bene mi limito a questo ma non oso dire nulla su quello che hai detto tu un bacio a quattro mi piace altra lettura sì infatti ora si può parlare di ascesso perché ce l'hanno loro la coerenza non sanno dove sta di casa sono tante le cose di cui non sanno l'indirizzo eppure l'indirizzo ce l'hai rintracciarmi non sarà un problema dai dai no il fiangolo no non l'avevo immaginato continuo io voglio anzi no esigo onda che narra le mie giornate contando di nelle puntote precedenti io già me le immagino immagino una scena quando mi alzo al mattino eccola eccola che si sta alzando avanti alzati e cammina voglio la mia vita narrata con la tua ironia quale ironia che mi fa morire ma qua no non parliamo di morti per carità per carità che morte tutto che ti passa davanti e non voglio morire stavo per ma già dal titolo stavo ridendo sei fantastica ne voglio ancora buona giornata medic infermiere eh dottoressa un ululato e un latrato grandi grandi sei la solita amorosissima che mi fa morire da ridere e un bacio anche a chi mi ha mandato un fioricino ma credo lo abbia dedicato a lei a chi ha scritto quel commento che ci ho tanto fatto sorridere ancora ciao onda si sentono dei click click non so cosa stavi toccando mentre parlavi ho cambiato le cuffie e adesso sentite praticamente tutti i rumori che ci sono attorno a me semplicemente questo scusatemi come al solito purtroppo onda questi continueranno a parlare di questa cosa per giorni la parola altruismo non la conoscono tanto meno la parola rispetto sfrutteranno anche questa cosa per monetizzare tra parentesi papponi non gli importa niente delle persone che davvero hanno sofferto addirittura se ne sono andate da questa terra se te mi piace più il mio e grazie solo grazie adesso capisco quando Lazzaro moglie la trava onda mi ha citata semplicemente Lazzaro nonna che dice siete tutti dei papponi ma chi è che mette la pubblicità nei video della tragedia che ha colpito la famiglia onda e boh non lo so deve essere qualche manina strana di sicuro non sono io di sicuro non sono io se te mi piace ciao Ondina secondo me l'età non giustifica che una persona possa permettersi permettersi di essere cattiva su quel canale continua l'arroganza e la disinformazione oltre alla volgarità bisogna porre un freno a tutto ciò va ci va ed in bocca al lupo si può dire certo che si può dire per i tuoi studenti grazie infinite grazie anche secondo me l'età non giustifica tutto questo bisogna mettere un freno ma ce l'ha l'interesse youtube a frenare l'introito comunque perché guardate che youtube ci guadagna sulle visualizzazioni non sono soltanto gli youtuber che ci guadagnano ma anche youtube e quindi perché dovrebbe farlo se si guadagna ci sono 10 mi piace per questo commento andiamo avanti stiamo quasi per fine ma no i papponi sono contrapposti alle pappine ah ecco non ci avevo pensato in effetti ed ecco un commento sotto che non hanno preso abbastanza né lui né lei siete monelli siete monelli condivido cara onda certi anziani sono maleducati ed io se è il caso glielo faccio notare un uomo avanti negli anni mi ha dato uno spintone per scendere dal bus per primo gli ho chiesto se doveva prendere qualche treno non eravamo alla stazione per cui era ironica la domanda e manco mi ha risposto come si dice qui né cane né crepa bella l'educazione sì sì e io e tutti gli altri dieci pensiamo appunto che il rispetto ciao state bene buongiorno io non so di chi si parla ti preoccupare non ti preoccupare ne parliamo soltanto per parlare in generale del problema non per dare la minima rilevanza a loro e si sente già dal cognome non ti preoccupare quindi ma ti posso confermare che ho riscontrato più cattiveria nelle persone anziane che nei giovani e anche più ineducate solo perché hanno una certa età non tutto è concesso loro buon lavoro di cuore tesoro grazie infinite baci 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 a te signora luciana so che leggerà ma c'è chi fa il pappone e chi fa il mantenuto c'è chi lucra sul dolore degli altri facendo video a una moribonda o fa video mentre regala orologi a chi ha appena perso un familiare lo sapeva che c'è gente così poi dire mangiore agli altri da parte vostra è veramente da ridere 16 like e le risposte la prima di risposta non credo che sappia di chi si parla non ha mai visto video prima se non sa di chi si sta parlando qui glielo scrivo in grande sua figlia infatti è scritto in lettere maiuscole tutto filmava nonna Lazzaro mentre moriva e poi regalava un orologio al marito a favore di camera per ricordare la nonna morta lo filmava mentre piangeva poi lo ama ed è sensibile secondo commento di risposta tu pensi che la madre non sappia io credo di sì si è presa l'ex della figlia in casa sapendo chi era ha retto il gioco alla figlia sui gemelli lei sa chi è la figlia non è che la signora sia una povera ingenua sì la figlia è una grandonna umile sensibile sincera ha tutte le virtù terzo commento che ringrazia la precedente il precedente commento e aggiunge per non dimenticare ciao quarta risposta quarta risposta le nefandezze che ha compiuto la figlia sul tubo lei non le ha viste credo anche se lo avesse fatto giustificherebbe il tutto loro sono gli intoccabili ultimo credimi che non lo sa ogni volta che chiedono al marito della figlia come ha conosciuto la figlia lei ascolta e fa domande come se non avesse mai sentito la storia e che so io ma posso assistere anche più volte lui ha raccontato almeno tre volte la storia ma per lei è sempre nuova ma anche per altre storie entrambi dopo poco tempo non ricordano le cose come quando lui ha chiesto a lei di sposarla e la matrona letterata alla domanda hai sentito mi ha chiesto di sposarmi lei ha risposto che manca il pane e che non sapevano a quello che andavano incontro ma lei non si ricorda la memoria non è una loro virtù posso dire che c'è stato qualcuno che tempo fa aveva provato in credo sei ore sei sette forse a raccontare tutte le loro imprese e sappiamo che la signora guarda tutto ma proprio tutto quello che li riguarda quindi state certi che lo sa lo sa lo sa benissimo gli ultimi commenti buongiorno ma non avevano detto che non facevano più live sull'ascesso ora corro a vedere la live oh signore quindi io sto facendo tutto sto male buon lavoro grazie per iniziare la giornata con te grazie a te grazie a voi leggiamo ancora nuova ah si riferisce ad un altro video il primo nuova wow mi sembrava quella vecchia e déjà vu déjà vu capita anche a me era sembrato di aver già visto questo nick che commentava no ma mi sbaglio di sicuro dopo c'è un non è durata molto puntini 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 l'ha detto già qualcuno ma una frase dovete scrivere l'inizio la parte centrale e la fine io non è che mi posso andare a ricordare che cosa avete scritto prima che cosa volete dire o dovete scrivere tutto tutto per intero mi raccomando credeteci cuori 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 a tutti e ci sentiamo presto al più presto possibile baci 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 grazie a tutti